ciao benvenuti nel mio video allora oggi vi voglio parlare di questo contorno occhi della bottega verde e sapete che io sono sempre alla ricerca di un ottimo contorno occhi allora questo qui intanto è il goji perfect trattamento anti rughe contorno occhi anti borse e occhiaie ho letto anti borse occhiaie direttamente perché sarebbe la svolta allora compro retinolo d'estratto di goji per tutti i tipi di pelle la confezione è un 10 ml e il prezzo di listino è di 25 euro e 99 ma io sto guardando si trova anche a 12 99 oppure in promozione con i saldi o gli sconti a 7 e 99 allora prima di tutto vi mostro la confezione che è questo qui vediamo se riesco a farlo vedere ok dunque l'applicatore è il classico questo qui con il beccuccio classico applicatore e direi che prima di parlare del prodotto text tutto quanto vi faccio vedere l'applicazione allora cosa dire di questo contorno occhi andiamo a leggere e cosa dice dice di essere un attivatore di perfezione anti borse e occhiaie abbiamo detto con estratto di goji combatte i segni attenua borse e occhiaie combatte i segni del tempo illumina lo sguardo effetto pelle perfetta dunque sappiamo da principio che nessun prodotto fa sparire borse e occhiaie lo sappiamo ma se c'è qualcosa che aiuta un pochino perché no allora intanto questo prodotto ha una texture leggera basta poco prodotto si stende bene si applica sui contornocchi un leggero massaggio e assorbe molto velocemente quindi è perfetto sia di giorno sia di sera anche come base makeup non da nessun tipo di problema perché assorbe davvero velocemente vediamo a quello che promette dunque avevamo detto attenua borse e occhiaie più o meno perché la formula è leggera e quindi è leggermente idratante andandola a massaggiare lo picchiettiamo con le dita tranquillamente oppure con uno di quei massaggiatori anche magari anche freddo in acciaio va immediatamente a decongestionare un pochino il ristagno dei liquidi appena appena visibilmente appena appena diciamo che non fa i miracoli anche se utilizzato sul lungo periodo non è che va a farlo sparire ha una leggerazione decongestionante però non è una formula fredda quindi è proprio un fatto di massaggio massaggiandolo si va un attimo a riattivare il microcircolo e quindi le borse e occhiaie che sono causate dalla cattiva circolazione un attimo si attenuano che comunque è un fattore anche visibile quindi perché no poi andiamo avanti con quello che promette quindi attenua borse occhiaie combatte i segni del tempo si ci può stare ci può stare perché comunque è un contorno occhi idratante il l'estato di goji è comunque un ottimo prodotto che non è neanche troppo in basso nell'inci quindi ce n'è abbastanza è un ottimo ed è ingrediente per il microcircolo anche quindi combatte segni del tempo perché anche se smetto di andare avanti con questa confezione combatte segni del tempo perché comunque sia va a tenere idratato il contorno occhi e il goji ha un'azione che aiuta il microcircolo e quindi evita che aumentino i segni del tempo che aumentino quelle che ci sono non spariscono però evita che aumentano quindi lo tiene idratato evita i segnetti magari quando strizziamo gli occhi evita che si formino più velocemente le rughe perché no sicuramente è più di un semplice correttore e correttore contorno occhi idratante è un po di più poi il goji aiuta sempre poi vediamo illumina lo sguardo eh ecco questa è un'azione che non ho notato perché la texture non è illuminante quindi non ha non ha una per le scienze illuminante e si ti da un attimo l'effetto idratato ma illumina lo sguardo no no andiamo avanti effetto pelle perfetta nei miracoli ecco allora no non esageriamo adesso effetto pelle perfetta è impossibile è un contorno occhi allora le prime due ci stanno ripiloghiamo tutte le promesse non le mantiene ma lo sapevamo perché è un contorno occhi non è la bacchetta magica quindi lo sapevamo diciamo che eh non voglio trovarci pregio difetti e non voglio stringere per trovarli anche perché l'ho pagato io non me l'hanno inviato quindi eh sono soldi spesi da me diciamo che è un contorno occhi che con l'estratto di goji che nell'inci è più o meno a metà non è in ultimo ma non è neanche all'inizio aiuta un pochino ha il microcircolo del contorno occhi e quindi può essere un prodotto abbastanza valido mi è piaciuto per il fatto che comunque va a idratare lo tiene idratato lo tiene morbido e non appiana i segni del tempo quelli no però va ad aiutare oltretutto assolve velocemente quindi per me alla mattina applicarlo e poi andare sotto a truccarmi non mi ha dato nessun tipo di problema e per questo mi è piaciuto diciamo che come ho già detto e ora contate nel video quante volte ho detto diciamo che così mi lasciate un commento quante volte ho detto diciamo che e se volete potete partecipare anche in sanzioni di un premio scelto da me come sempre ma se non sapete di cosa parlo andate alla fine del video per scoprirlo allora diciamo che contate contate è un contorno occhi che fa il suo lavoro ma non mantiene tutte 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 le promesse di questo ma lo sapevamo comunque sia oltretutto devo dirvi che se non mi ricordo male si ha un profumo leggero ma non persiste sulla pelle quindi non dà fastidio anche al contorno occhi ottima cosa attenua con l'applicazione con il leggero massaggio attenua le iniziatismi delle borse e delle occhiaie non quelle profonde ma quelle magari al mattino oppure alla sera quando vediamo subito che il sguardo è stanco ecco quello un pochino sì quello aiuta fai miracoli? no è un buon prodotto sicuramente è di più di un contorno occhi semplicemente idratante questo ha una marcia in più quindi mi può piacere diciamo che contate trattamento anti rughe e poi dice di essere adatto a tutti i tipi di pelle quindi va bene per anche le pelli giovani o qualunque tipo quindi se siete giovani il contorno occhi sempre mi raccomando se siete giovani potete iniziare a prevenire i segni del tempo o se no a evitare che se ne accompagnano i nuovi perché ne abbiamo già abbastanza quindi evitiamo che ne accompagnano i nuovi quindi questo è tutto quello che dovevo dirvi ovviamente non fai miracoli ma funziona ma funziona sicuramente ora voglio sapere da voi nei commenti se vi incuriosisce ecco magari a prezzo pieno no perché a prezzo pieno abbiamo detto che costa 25,99 ma scontato a 7,99 ha dentro l'estratto di goji che sappiamo che è un super estratto che va sempre bene aiuta anti radicali aiuta a tenere la pelle compatta aiuta aiuta il microcircolo col massaggio aiuta anche il microcircolo quindi sicuramente fa un valido lavoro voglio sapere nei commenti se l'avete provato come si trovate se mi incuriosisce perché no e soprattutto sapete dirmi anche quante volte ho detto diciamo che perché io lo contate e lo so quindi vediamo se voi indovinate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao